Carissimi fratelli e sorelle, buongiorno e buon inizio settimana con il Vangelo secondo Luca, 12-13-21. Uno della folla gli disse, maestro, dia mio fratello che divida con me l'eredità, ma egli rispose, o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da sui beni. Disse poi una parabola, la campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto e gli ragionava tra sé, che farò perché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, farò così, demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce davanti a Dio. Buon ascolto del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Picoco. Non è nel possesso dei beni, ma nei legami che la vita si riempie. Quante famiglie si dividono per questioni patrimoniali? Quanto rancore, odio, distanza, sofferenza produce l'attaccamento alle cose? Si arriva a considerare il denaro più prezioso dei legami di sangue. Non a caso la smania del possesso e del denaro soprattutto è uno degli affabeti più usati dal male per tenerci prigionieri. Gesù racconta nel Vangelo di oggi una parabola per metterci in guarda da una simile tentazione. Il personaggio principale è un uomo, probabilmente un uomo onesto, che lavora ogni giorno e a cui la vita sorride donandogli abbondanza di raccolto. Fin qui nulla di strano. Gesù mette in bocca a questo uomo onesto un ragionamento che all'apparenza sembra essere innocuo, ma che in fondo nasconde un tranello. Il contrario di accumulare non è sperperare, ma condividere. Chi è eccessivamente attaccata alle cose e ignora i beni di chi gli sta accanto, si ritroverà con i magazzini pieni e la vita vuota. Ricordarci che non siamo eterni non serve a spaventarci, ma farci avere la consapevolezza che ciò che conta non è mai nelle cose, ma nei legami.